Se sei alla ricerca di colazioni sane, veloci e senza zucchero, sei nel posto giusto perché oggi ti proponiamo tre idee buonissime e facili da fare. Se ci segui su Instagram avrai sicuramente notato che nelle storie ci siamo sbizzarriti nella preparazione di Waffles perché questa settimana ci è arrivata una bellissima piastra e quindi abbiamo deciso di metterla finalmente al lavoro. Oggi infatti ti proponiamo tre versioni buonissime di Waffles soffici ma croccanti all'esterno perfetti sia da farcire in modo salato che dolce. Ma oltre ai Waffles oggi prepareremo anche un'altra ricetta molto speciale cioè un modo particolare di consumare i pancakes a colazione ed è proprio questo. Sono dei simil cereali però fatti con la pastella dei pancakes e sono perfetti da consumare nel vostro latte vegetale preferito. Ma fermi un attimo! Avete messo già mi piace a questo video? Se non l'avete fatto fatelo subito prima di cominciare e se siete nuovi sul canale iscrivetevi perché ogni mercoledì pubblichiamo ricette per aiutarvi nel vostro percorso alimentare. Cominciamo subito con le ricette! La prima ricetta sono dei Waffles di riso sofficissimi farciti con pesto, rucola e pollo. Per prima cosa prendiamo due uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Li mettiamo in due ciotole diverse. Insieme ai tuorli uniamo 100 ml di latte di soia, 50 ml di olio, scegliete quello che preferite e mescoliamo il tutto con una frusta. A questo punto aggiungiamo anche 180 g di farina di riso, 5 g di lievito in polvere per torte salate e mescoliamo. Ora prendiamo gli albumi e li montiamo a neve ben ferma con le fruste elettriche. Una volta montati li incorporiamo insieme al composto di prima. Aggiungiamo un paio di cucchiai inizialmente per ammorbidire l'impasto, dopodiché aggiungiamo tutto l'albume e mescoliamo con una spatola delicatamente. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e il nostro impasto è pronto. Ora scaldiamo la nostra piasta per waffles, la spennelliamo con un filo d'olio, dopodiché distribuiamo la pastella in modo uniforme con un cucchiaio. Con queste dosi io ho ottenuto 3 waffles. Chiudiamo e facciamo cuocere per circa 1 o 2 minuti, in base a quanto dorati li volete. Eccoli qua i nostri waffles, sono pronti! Avete visto quanto è facile farli? Ci vogliono veramente pochi minuti e pochi ingredienti anche. Adesso cosa facciamo? Li farciamo e vi faccio vedere che cosa ho preparato io. Allora utilizzerò del pesto che ho preparato semplicemente frullando del basilico, 20 grammi, con 80 ml di olio, uno spicchio d'aglio piccolo e circa 40 grammi di mandorle. Frullate il tutto e ottenete questo bellissimo pesto. Poi io utilizzerò anche della rucola e poi qua ho del pollo che ho cotto semplicemente in padella con un po' di sale e pepe. Molto semplice. Voi potete tranquillamente utilizzare altri tipi di farciture, ok? Non dovete seguire esattamente ciò che vi dico io. Sbizzarritevi e usate un po' la vostra creatività. Allora adesso cosa facciamo? Mettiamo i nostri waffles su un tagliere e poi aggiungiamo del pesto. creiamo praticamente dei panini, una specie di tramezzini che potete portarvi anche in giro quando siete magari fuori e sono molto molto comodi. Ah ovviamente nel pesto ci va anche il sale, non mi sono scordata di dirlo prima. Mettetelo. Adesso mettiamo il nostro pollo che nel frattempo l'ho tagliato un po' a pezzi. Non metto pollo qua in mezzo perché poi vado a tagliare a metà il nostro waffle e in questo modo sarà più facile tagliarlo. Adesso mettiamo della rucola. Potete usare anche un altro tipo di insalata che vi piace, anche della valeriana o qualcos'altro. E adesso ricopriamo il tutto con un altro waffle, quindi andiamo in questo modo e poi li tagliamo a metà diagonalmente, vediamo, in modo da ottenere proprio dei tramezzini. Una cosa simile ai tramezzini. Guardate che carini. Tramezzini waffle. Tramezzini waffle, buonissimi, non vedo l'ora di assaggiarli. Adesso faccio la stessa cosa anche con questo, quindi aggiungo del pollo, però questa volta l'aggiungo soltanto su questa metà perché siccome con queste dosi otterrete soltanto tre waffle, non ne abbiamo un quarto per ricoprirlo, ne facciamo soltanto uno tagliandolo a metà. Et voilà! I nostri waffle, tramezzini di waffle, come vogliamo chiamarli, sono pronti. Adesso io direi che ci sta un bel assaggio, così possiamo confermare la bontà di questi waffle. Ragazzi, sono sofficissimi. Sofficissimi all'interno e croccanti, leggermente croccanti all'esterno. Sono buonissimi, fatti così. Allora, assaggiamo. Mariana! Pronto? Pronti via! Wow! Buonissimi! Se per caso non avete una piastra per fare questi waffles, potete tranquillamente fare dei pancakes, quindi in padella semplicemente. Ma io ad ogni modo vi lascio il link della mia piastra che ho utilizzato oggi, che è questa, e volevo anche farvi vedere com'è meglio all'interno, perché tanti di voi mi hanno chiesto che piastra usi, anche a me serve una piastra per i waffles perché non ce l'ho, eccetera. Quindi vi lascerò il link di questa qua sotto al video, nella descrizione, e in tanti mi avete chiesto se le piastre si rimuovono. Allora, in questa no, però in realtà si pulisce benissimo, e come vedete io, dopo aver fatto questi waffles, non l'ho ancora pulita, e non è sporca per niente, perché ragazzi basta fare una pastella fatta bene, che non appiccichi, con i dosaggi giusti, e poi ovviamente dovete comunque spennellare leggermente con olio la vostra piastra. Comunque, come vedete, c'è pochissimo olio, che si può tranquillamente pulire con un po' di carta o un panno, e la piastra è a posto così. Io mi trovo benissimo comunque, quindi vi lascio il link qui sotto. E prima di andare avanti ne approfitto anche per ringraziarvi, perché siamo arrivati a 30.000 iscritti, ragazzi, sul nostro canale. È un traguardo veramente bellissimo per noi, perché significa che ciò che facciamo su questo canale e i nostri contenuti vi piacciono, vi sono d'aiuto, quindi ci sprona, ci motiva a farne altri, ed andare avanti a crescere questo canale, e divulgare questo stile di alimentazione sano. Quindi se non siete ancora iscritti, fatelo subito, basta cliccare sul pulsante qui sotto, in questo modo non vi perderete i nostri contenuti e ci aiutate a crescere questo canale. Adesso prepariamo i prossimi waffles, che sono una versione con una farina diversa, perché in tanti ci avete chiesto versioni con più farine, quindi io ho pensato anche a voi. Cominciamo! La farina di amaranto si presta benissimo in questa ricetta, sia come consistenza che come sapore, infatti assomigliano tantissimo ai waffles tradizionali. Per prima cosa prendiamo due uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Poi nei tuorli aggiungiamo 140 ml di latte di soia, 50 ml di olio, due cucchiai di succo di limone, per rendere l'impasto ancora più soffice, e mescoliamo con una frusta. A questo punto aggiungiamo 180 g di farina di amaranto, 5 g di lievito in polvere per torte salate, e mescoliamo. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ora montiamo gli albumi a neve ben ferma con le fruste elettriche. Una volta montati, li incorporiamo insieme al composto di prima, anche qui aggiungiamo un paio di cucchiai inizialmente per ammorbidire l'impasto, dopodiché aggiungiamo tutto l'albume e mescoliamo con una spatola delicatamente. Distribuiamo la pastella nella piastra ben calda e spennellata con un filo d'olio, aiutandoci con un cucchiaio. Con queste dosi io ho ottenuto 4 waffle. Chiudiamo e facciamo cuocere per circa 1-2 minuti, in base a quanto dorati li volete. A questo punto prepariamo la crema di tofu. Prendiamo 250 g di tofu, lo tagliamo a cubetti, lo mettiamo in una casseruola, e lo facciamo ammorbidire cuocendolo per 15 minuti dal bollore. Una volta pronto, lo scoliamo e lo passiamo sotto l'acqua fredda per raffreddarlo. Inseriamo il tofu in un frullatore insieme a 2 cucchiai di olio d'oliva, il succo di mezzo limone, circa 2 cucchiai di erba cipollina, un cucchiaino di aglio in polvere, del sale, 3 pomodorini secchi, 60 ml di latte di soia, e frulliamo il tutto fino ad ottenere una crema abbastanza liscia. La nostra crema di tofu è pronta, e adesso non ci resta che andare a farcire i nostri waffles. Allora, questi due li facciamo salati, e gli altri due invece li riserviamo per una versione dolce. Allora, farciamo con la nostra crema, questa crema comunque vi consiglio di farla riposare in frigo per una decina di minuti, perché ovviamente da fredda è molto più buona. Poi potete tranquillamente arricchirla anche con altre spezie, erbe aromatiche, insomma, scegliete in base ai vostri gusti. Io ho scelto questi, e secondo me è molto buona così. Ma va benissimo anche del prezzemolo o del basilico. Aggiungiamone un po' anche sull'altro waffle. Adesso tagliamo delle fettine di cetriolo, anche qui potete scegliere qualsiasi altro ortaggio che vi piace, di stagione, dei pomodori, della cipolla, dei peperoni, scegliete voi, in base ai vostri gusti. E li mettiamo sul nostro waffle. Questo cetriolo è un po' grande, cioè delle fettine giganti. Adesso tagliamo un uovo sodo anche a fettine. E mettiamo anche il nostro uovo sodo. Così. Tagliamo anche l'altro uovo sodo. Anche qui ragazzi potete scegliere quello che preferite per farcire, anche delle zucchine grigliate, quello che vi piace. Un pizzico di sale sulle uova. Finiamo con della valeriana, ma va benissimo anche della rucola se volete, o dell'insalata semplice. E il nostro uovo è quasi pronto. Adesso copriamo con il secondo. Guardate già che bel paninone gigante. Ma è un bel paninazzo questo. Eh sì. E adesso lo tagliamo come prima a metà. Wow. Guarda che spettacolo. Che bello. Chissà che buono. Buonissimo. Allora, questi li mettiamo un attimo da parte e prepariamo quelli dolci, che sono molto semplici ragazzi. Dolci senza zucchero bianco. Sì, beh, senza zucchero bianco, come sempre. E potete scegliere o lo sciroppo d'acero, perché solitamente i waffles, come un po' anche i pancakes, vengono serviti in questo modo, e poi con un frutto. Oppure io ho scelto del semplice miele, perché non ho in casa lo sciroppo d'acero. Quindi aggiungiamo un cucchiaino di miele, in questo modo, e poi potete scegliere la frutta che avete in casa. Non so, una mela, una banana, delle pesche, quello che preferite. Io ho dei ribes rossi, perché mi piacciono tantissimo, e quindi, anche per, non so, rendere i nostri waffles un po' più carini, li guarniamo con dei ribes, in questo caso. Poi, se volete, potete aggiungere della granella di mandorle, ma anche di nocciole va bene. Pochissima, non ne serve tanta, giusto per dare quel tocco finale. E questa è una versione dolce veramente buonissima. Ovviamente, poi, quando li mangiate, farcite anche quello sotto, cioè, decoratelo con miele e sciroppo d'acero. Ma così va benissimo per la presentazione e per darvi, comunque, un'idea in più per le vostre colazioni. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al nostro canale, potete farlo adesso. È gratuito, basta cliccare qui sotto sul pulsante iscriviti. Poi, noi ci siamo anche su Facebook e su Instagram, sempre con DNA, videoricette per i gruppi sanguigni e potete seguirci anche lì. Pubblichiamo tante dietro le quinte, tante storie e tante foto e consigli molto utili che possono, appunto, piacervi e intrattenervi. Non andate via, mi raccomando, perché abbiamo ancora una ricetta per voi. Ora vi propongo un modo alternativo molto diffuso in America per servire i pancakes. Prepariamo dei simil cereali di pancakes perfetti anche per i bambini. Come prima cosa, rompiamo due uova in una ciotola. Qui non è necessario montare gli albumi. Poi aggiungiamo 100 ml di latte di soia, 50 ml di olio a piacere e mescoliamo con una frusta. Poi uniamo 150 g di farina di amaranto o anche di quinoa, va bene. Aggiungiamo 5 g di lievito in polvere per torte salate, un cucchiaio di cacao, un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Scaldiamo una padella con un filo d'olio. Dopodiché prendiamo una sacca poche, la apriamo all'interno di un bicchiere. Dopodiché trasferiamo tutta la pastella nella sacca poche. A questo punto tagliamo una puntina piccolissima e andiamo a cuocere i nostri piccoli pancakes nella padella. Aggiungiamo pochissima pastella in modo da ottenere delle palline piccolissime. Ragazzi, io mi sono divertita un sacco a fare questa ricetta. Guardate che carini, sembrano proprio... Avete presente il riso soffiato al cacao, no? Che trovate anche in commercio? Ecco, sembrano proprio quelli, perlomeno come aspetto. Come gusto ovviamente saranno un po' diversi, ma sono comunque buoni e potete mangiarli nel latte di mandorle o di soia al mattino, come farò io adesso, perché adesso li assaggiamo. E niente ragazzi, raccontatemi un po' nei commenti qui sotto. Voi avete mai provato una ricetta del genere? O comunque vi mancano i cereali, quelli tradizionali, insomma, da mettere nel latte al mattino? Ditemi un po' qui sotto, nei commenti. Io mi sono disabituata completamente. Poi, se si può fare una roba del genere anche in casa, siamo a posto. Adesso, cosa facciamo? Assaggiamo. Allora, con queste dosi io ho ottenuto circa 200 grammi di cereali, tra virgolette, chiamiamoli così. Ma, ovviamente dipenderà se volete fare doppia dose o se volete, insomma, dimezzare la dose. Potete fare come volete. E poi, io li ho fatti così piccoli, ma voi potete tranquillamente farli anche un po' più grandi, come una moneta da 20 centesimi, per esempio. Però a me piacciono proprio piccolini piccolini. E poi, più li fate cuocere, più saranno croccanti. Però mi raccomando, fateli cuocere a fuoco basso. Ok? E copriteli con un coperchio, in questo modo cuoceranno uniformemente, e saranno pronti praticamente in pochi secondi. Adesso aggiungiamo due cucchiai, anche due cucchiai e mezzo. E poi, io aggiungo del latte di mandorle, non tantissimo. E basta! Come se fossero dei cereali tradizionali. Sembrano proprio quelli, guardate che carini. Adesso, se volete, potete aggiungere, non so, un dolcificante a piacere, se volete dello sciroppo d'acero, potete farlo. Ma siccome noi non abbiamo messo nessun tipo di zucchero qua dentro, a me piacciono così, anche perché il latte di mandorle è già leggermente dolce di suo. Non tantissimo, però è molto gradevole come sapore. Quindi, assaggiamo. Madonna! Buoni! Proprio buoni! Quindi ragazzi, se volete, potete metterci anche del miele dentro per zuccherare un po', oppure potete mangiarli così come aveva detto Diana. Buonissimi! Io spero che queste ricette vi siano piaciute e che vi diano degli spunti nuovi per le vostre colazioni. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarci un mi piace e di iscrivervi al nostro canale. Inoltre, vi ricordo che potete trovare i nostri libri sul sito, vi lascio sempre il link qui sotto nella descrizione. E per ora direi che è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Vi aspetto! Ciao!